Ciao, sono Nadalina Porta Ovetti e questo è il tutorial per realizzarmi. Oh, che voce profonda Gallinella! Tutorial completo! Dall'album di cartoncini colorati ho preso un foglio, l'ho diviso a metà e poi l'ho tagliato in due per ricavare due belle gallinelle. Dopodiché ho ritagliato un arco. E fin qui tutto chiaro! Adesso faccio un taglietto nella piega centrale e creo quindi due linguette. Dopodiché vado a sovrapporle tra loro, fissandole con un punto di spillatrice. Ma comunque a me sembrano due. Si, hai ragione, due. Con il cartoncino giallo vado a creare gli accessori. A te becco coda e zampe li chiami accessori? Eh sì, dai, scherzavo. Comunque li ritaglio e li fisso con della colla stick. Passiamo a cresta e bargiglio, che fino a ieri ho chiamato gargarozzo. Io ho utilizzato della gomma Eva, ma va benissimo anche il cartoncino. Anche loro li incollo con della colla stick. A questo punto sono pronta per decorare. Con un pennarello nero vado a disegnare l'occhio, i dettagli del becco e a ricreare il fiumaggio del pennulo.